Un attimo, questo non è il mio mondo, un attimo, una casa, permesso, permesso. Ok, questa casa non so di chi è, però, ok, provo ad entrare, oh cacchio, una persona, un attimo, non può essere una persona, non può mai essere una persona, invece una persona, corri, tu in casa mia, aiuta, 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 aiuta Ora io ti ammazzano Votto uomo La prego Sono ritornato Dalla guerra Quindi vaffanquale La prego Un attimo Le posso parlare Signore Scusa signore Le posso parlare Io dovevo Non avevo una casa Non sapevo Io ero dentro una serie Minecraft come noi eravamo così Io avevo una serie Youtube dove si chiamava Il forno Però dopo sono venuto qua Non sapevo che la casa era sua La prego Non mi uccida Questo che ti merdi No signore Ok Tu gentiluomo Puoi restare Veramente? Sì Ok Grazie per avermi Ospitato signore Prenditi il letto Ho fatto lo uno Ho Prenderò Gli dal piccone Ai 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 Le mie costole Ai 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 Entra da qua Sì Oh Questi ragazzini di oggi Ecco Piove pure Maledetto Signore 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 Sta piovendo No Eh ma i letti si bagnano Eh Non si bagna niente Non levare il letto C'è no C'è tutto giù dal balcone Scusa 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 Stai furto a casa mia Scusa Scusa La prego La prego Posso spiegare la mia storia? Matta da casa mia Posso spiegare la mia storia? No I miei genitori sono morti quando io sono nato No la prego La prego Non ho più la casa Dove mi vado a rifugiare? Sotto i punti Lascia questa Tenga 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 A me lo servirà Ora fu da casa mia Non mi romperò le cose What? What? Ok Vengo qua sotto Guarda Oh un pistone Che figo Non lo accendo Oh Fuori da casa mia Creepy Fuori da casa mia Un attimo Sono un assassino Va bene? Questo è sangue Ok Figo Ora Vatti Posso vivere Posso vivere Siamo a lei Non tocco niente Non dico niente Alla polizia La giuro No No Signore Signore Che anche io vuoi Bisetta Sì Non ho più la casa La prego Mi aiuti Fammi andare qui Perché se non quel ragazzino giuro che l'ammazzo Chi ho? Di nuovo! No, 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 signore, la prego Signore, signore, signore Signore, posso parlare? Ah, la chiude, la porta in bocca Aia, aia, aia Signore, ma lei Signore, ma lei ha preso un apparto super gentile Porco cane, mi può capire, signore Oh, cazzo, corri, corri La conta mille Aia, 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 lei mi costa La conta mille Sì, un attimo E ora questa roba me la terrò No Oh, fame, cibo, la prego Oh, fame No, anzi, l'arco me lo tengo Fame, cibo, la prego Fame, cibo, la regalo la casa mia Però possiamo vivere insieme Oh, no, io fotte 6 che io dormo Ma dormire Ti butto fuori da casa mia No, no Quindi non fussare Grazie Grazie Mi fa me l'arca Pronto Bene ragazzi Quel signore che se ne è andato Mi ha regalato casa Vivremo insieme Però Forse avete capito Chi è l'individuo E' vero? Vabbè Questa è la mia nuova serie Cioè è sempre la serie Il forno Quella lì Che sto Che ho finito di fare Però questo è il continuo Cioè Quello lì era un mini trailer Però adesso se ne è andato E' andata la caccia di zombie E' andata la caccia di zombie